E benvenuti ragazzi, sono TheCoverDog e benvenuti in questo nuovo video ed in questo video siamo su A-Day Eccoci qui ragazzi Allora, finalmente facciamo un video di A-Day Allora, sono appena entrato, ho appena fatto l'accesso Vedete il mio livello perché ancora non l'avete visto E quindi iniziamo Abbiamo già due persone qui che vogliono vendere Queste persone vogliono vendere Adesso io direi che la prima cosa che facciamo è quella magari di togliere tutto il raccolto Ok E abbiamo già il silo spieno Quindi vendiamo delle cose Magari vendiamo, ecco Vendiamo magari queste Che ne abbiamo abbastanza Qua ne vendiamo sette Perché diciamo che io mi tengo sempre le cose a 20 Se sono più di 20 tendo a venderle Ok Tiriamo sul resto Ecco Che qui ho piantato troppo Troppo canna da zucchero Ne vendo altri 6 Così magari facciamo anche qualche soldo Ci tiriamo su Che tra l'altro mi servono 31.000 Per farmi la spremitrice Ecco qua Quindi per fare il succo Che c'ho qua Succo di carota E tra l'altro Tra un livello sblocco anche il succo di mela Quindi Per forza devo farlo Ok Allora Qua mi sa che hanno comprato Va bene Un po' di soldi ce li tiriamo su Vediamo che viene Allora di solito non vendo Nulla a loro Anche perché Ti pagano meno di quello che dovrebbero Tipo a 13 potremmo venderglielo Ok così Abbiamo fatto anche la missione del pass C'è 9.20 Quindi così Ecco ma rivendo anche due Due di soia Non mi ricordavo cos'era Ok Ah qua prendiamo anche il ferro Che l'avevo dimenticato Perché ha sbloccato anche la miniera Eccolo qua C'ho poche materie prime Cioè Questa qua La pala E la TNT E anche l'esplosivo Ce n'ho poco Quindi diamo da mangiare agli animali Eccoli qua Loro sono a posto E i maiali Adesso vediamo quanto cibo ci resta 3 e 3 Quindi facciamo Questo E questo E poi 7 Loro sono a posto Quindi prendiamo la maglia Prendiamo anche La Qua lo zucchero E vediamo Allora 3 3-7 ore Pronto Quindi ancora un bel po' 2 Torta con panna Quindi sicuramente la panna Dobbiamo fare Ah no Una lo possiamo già fare Però la seconda Bisogna Farmare un po' Quindi Uno zucchero normale Stavolta Non so perché Sono andato là E Una panna Che in 20 minuti Si fa Ecco Tiriamo su tutto quanto Quindi siamo a 28.103 Lei vuole Succo Ma non ce l'ho Vabbè Paga bene I succhi però Pagano bene La pasta di pancetta Eccola qua Che è pronta Stavo per spendere Delle gemme A caso Però vabbè La maglia Ah è già pronta Allora possiamo già vendere Una cosa Perfetto Partito il furgone E due Quindi Due di Popcorn Dopo dobbiamo ripiantare Il grano turco E Uno Di canna da zucchero E due Che mi sa che mi serve La canna da zucchero Quindi uno Ok Quindi mi soldi E me ne serve un altro Visto che non abbiamo più uova Mi pare Ne abbiamo sei Ne abbiamo pochissime Facciamo Un cibo per le galline Quindi Facciamo così Qua mi serve tre Qua me ne serve Piantiamo Il grano turco Dobbiamo piantarlo Perché prima ce ne avevamo di più Ma adesso abbiamo venduto E 15 17 18 19 20 Poi Mi serve Che non lo trovo Per fare sta vendita Dov'è Mi serve Il filetto di pesce Che non lo trovo Però Non riesco a trovarlo Ho provato a guardare qua Nel Magari nel Ah Cibo per galline È già venduto Infatti Una volta Ho provato a guardare nel giornale Il Il pesce Il filetto di pesce Ma non si trova Cioè Nel tempo Che apri questo E schiacci Vai Alla Al mondo Degli altri È già venduto Perché Ora che lo metti nel giornale Un sacco di persone Lo vedono Allora Andiamo un attimo Qua siamo Nel mondo Di mia sorella Vediamo Si dà qualcosa Sempre monete Ci dà Lei ha venduto due uova Vabbè compriamo Quindi per ora abbiamo Otto uova E aspettiamo Che tanto Quattro minuti Qui abbiamo fatto Che abbiamo fatto Aspettiamo Questo signore Che sta arrivando Vediamo cosa ci offre Spero Tanti soldi Qua mi manca L'ascia Per tagliare gli alberi Vediamo che vuole 9 su 15 Potremmo fare Ma si Dai Diciamoli di sì Piantiamo altre carote Però Che qua ne abbiamo Piantiamole tutte Dì dopo Non abbiamo problemi Andiamo anche Nell'altra pagina Però il cotone No Allora Sapevo che Mi ricordavo Che i manca Ah ecco qua Il tessuto di cotone Un altro biscotto Ma cavolo E ora dopo Finiti questi Dobbiamo impiantare Anche questo Togliamo qua Vedete ragazzi Più o meno Sui dei Fai le missioni E poi Tipo adesso Io avrei già finito Infatti E i dei Un po' così Qua me ne mancano Due Due chiodi Vedete ragazzi Vi mostro anche I miei animali Che ho preso Allora lui Appena è andato Dietro la casa Sbuca Dovrebbe sbucare Eccolo qua Ho chiamato come Il mio cane Mentre c'è lui E poi c'ho altri due gatti Qua la volpe Non c'entra Di solito Si mettono anche qua dietro A dormire Infatti certe volte Sono coperti Dalle casette E quindi non si vedono Oh Gran Turco è pronto Bene Non trovo i gatti Oh Pau Vabbè Ce ne ho già Però possono servire Allora qua ci stanno i gatti Giusto Chiamami i gatti Che non li trovo più Li sono andati A cacciare Ma quel signore di prima Che se ne sta andando Dov'erano i gatti Vabbè Questo l'ho chiamato Ginger Me ne manca un altro All'appello però Ah Eccolo Se l'ho chiamato Batufolo Vabbè Non mi un po' caso Così Tanto per Gambali da cowboy Mi ricordavo che mancava qualcosa Allora Ci danno Non ci danno tanti Punti livello Però vabbè Dai Intanto Farmiamo un tessuto di cotone E Piantiamo questi tre Di solito Quando è a undici Ne pianto tre Così Arriva da quattordici Praticamente Vabbè Andiamo magari Da Greg Vediamo cosa vende Anche prima Ho già acquistato Un po' di roba Di grano turco Potremmo Anche prenderlo Tanto Andiamo un po' Le bancarelle Ecco Tipo qua Sono le maglie Che ci servono 10 di grano turco Ma tanto Si sta già piantando Giusto Ma questo Ha andato un sacco di robe Io però Diciamo che non vendo mai Ste cose ragazzi E cioè Quello per aggiustare Tipo il granaio Il silo Ste cose qua Non le vendo mai Ti fai un botto Di soldi Però dopo è difficile Anche trovarle Quello è il problema Vabbè Eccoci qua Niente ragazzi Se questo video vi sia piaciuto Vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi Commentate Magari commentate Anche se vi piace Magari cominciamo Un'altra serie Una nuova serie Sui dei Tanto A me fa piacere Vabbè Tagliamo qua E ci saludiamo Vabbè niente ragazzi Ciao a tutti Noi ci vediamo In un altro video Perché in un altro live Non posso più dirlo Perché non si fanno live Non ce le fanno fare Vabbè Noi ci vediamo Ciao a tutti ragazzi Ciao Ciao